... no no ragionami ... 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 mi sono visto una bocca allegra ma ancora... capisco no? non posso ci rinviare se la cazzo messo? no no, se mi aveva messo una cosa ne ho furia se la cazzo la fuggava più dietro cioè ne pensava ne Angela, ne Fia, ne... non pensava a se stessi non mi fai rubare è l'altro lei non mi abbassare, venga rubare e venga, non mi affumava non mi affumava te lo faccio tornissimo perchè sono attorno e trovo la poluzia che tal? come siamo belli qua così io ho convinto che non me lo prendi una pellicola una pellicola, quello mi stanno prendendo ciao a tua moglie a Bianca, ciao Bianca poteva venire